Parte da Biele il progetto per bonificare le acque inquinate dal petrolio usando un prodotto ecologico come la lana. Sul suggerimento del presidente dell'Unione Industriale Biellese, Luciano Donatelli, è stata riscoperta la capacità della lana grezza di assorbire oli in quantità 10 volte superiore al proprio peso. Il progetto WORLS, brevettato dalla società Gruppo Creativi Associati, prevede un kit da allestire su misura su qualsiasi imbarcazione che sparge i fiocchi di lana sulla macchia di petrolio. Una volta inzuppata, viene poi recuperata da un nastro trasportatore e strizzata. Il procedimento consentirebbe così di raccogliere e recuperare gli idrocarburi e la stessa lana pronta a una nuova operazione. Le fibre poi possono essere riutilizzate fino a più di 10 volte per poi essere smaltite in un termovalizzatore. La lana sudicia, ovvero non trattata, oltre a raccogliere oli e petrolio, è al contempo idrofoba, ovvero non assorbe l'acqua. La capacità della lana di raccogliere gli oli era conosciuta fin dall'antichità.